Spieghi che succede Potrebbe essere stato lui Questo lo so Parlo di noi, da questa mattina che mi eviti Non ci può essere nessun muiello Cosa significa? Lo sai Noi non possiamo avere una vita normale Non possiamo programmare un viaggio perché Potrei non fare in tempo a partire Non posso accompagnare i tuoi figli a scuola perché Rischio di fare un altro occidente E non so nemmeno Se arriverò a domani Che vita sarebbe questa? Non lo so ma non è mai stato un problema per adesso Per me lo è Lo sarà anche per te Hai già deciso tutto? Se non voglio farti soffrire Direi troppo tardi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti